Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo con il portiere strano mestiere. Inizio con una comunicazione di servizio ed è relativa al libro sul ruolo del portiere che voi già conoscete. Stiamo provvedendo alla ristampa, io spero di poterle avere pronte e di poterle consegnare a chi li desidererà durante la Coppa Italia che desidererà a Genova il 25-26 febbraio prossimo evento, naturalmente sto parlando di questo libro. L'altra comunicazione che voglio fare è che sono iniziati corsi sul portiere presso Villa Aurelia, si tengono il martedì, attualmente i posti disponibili sono esauriti, io gradirei che ci fosse una maggior partecipazione da parte degli allenatori, che pure sono presenti alcuni, perché è indubbio che i suggerimenti, i consigli, le correzioni che io posso fare nell'arco di un'ora e mezzo, poi se non sono continuativamente attenzionati e seguiti dall'allenatore, poi possono non avere e non dare il risultato sperato. Detto questo, vorrei fare anche un ragionamento di tipo tecnico su due aspetti che io trovo vadano meglio affrontati, uno è lo spostamento del portiere nell'uomo in meno, inferiorità numerica, e l'altro è un movimento delle braccia. lavorando con i ragazzi più o meno grandi, mi rendo conto che principalmente si troviamo di fronte a due tipi di movimento, una distensione del braccio nella direzione del pallone, che devo intercettare, e uno per la chiusura di entrambe le braccia e le mani sopra la testa, per il tiro sopra la testa. Il primo movimento normalmente è incompleto. Perché dico incompleto? Perché viene effettuato con un inizio di trazione del braccio che deve andare a effettuare la parata, senza nessuna partecipazione da parte della mano opposta. Quindi questo, che cosa comporta? Un ritardo nell'uscita della mano dall'acqua e una minore possibilità di spostamento di tutto il corpo in quella direzione. Un altro tipo di movimento che dal mio punto di vista è un po' trascurato e viene affrontato in maniera errata è quello della copertura degli spazi alati della testa. Perché dico questo? Perché generalmente si insegna ai ragazzi a tenere questa posizione dei gomiti, con gli avambracci paralleli, che gli consente di chiudere questi spazi, ma abbiamo già visto che crea delle difficoltà a livello articolare nel fare questo tipo di movimento. Un altro suggerimento che darei, che ho già dato e che ribadisco, è invece di far tenere i gomiti in questa posizione, basta farli leggermente allargare. Ed ecco che sia il movimento di anticipazione della traiettoria, perché questo movimento è abbastanza innaturale, ma se io anticipo la traiettoria del pallone che va al lato della testa, forse ho la possibilità di intercettarlo. Un altro tipo di movimento che è un po' trascurato al mio punto di vista è quello della chiusura sull'acqua. Tant'è vero che spesso noi vediamo dei portieri che cercano l'elevazione, cercano il salto, ma poi si trovano automaticamente scoperti nella chiusura del tiro sull'acqua. A meno che non si tratti evidentemente di un movimento predefinito, scelto da un portiere di esperienza che vuol creare un varco nel quale attendere il tiro del giocatore per poterlo stoppare con facilità, fermare con facilità. L'altro tema che voglio velocemente e brevemente affrontare è lo spostamento durante la situazione di inferiorità numerica. Infatti vedo che molti tendono a uscire, al mio avviso, un po' troppo dalla linea di porta quando si tratta di piazzarsi sui giocatori in posizione 2 e 4. Questo che cosa comporta? Un ritardo specialmente nelle longiline importanti nel recuperare la posizione corretta sui tiratori da posizione 4 e da posizione 1. Parlando della posizione 1, che è quella diciamo più problematica perché può essere coperta sia da un giocatore mancino che da un giocatore destro, io quello che suggerisco è stare con la mano dietro sempre e comunque con bacino principalmente e poi anche il corpo indirizzato verso il giocatore, in direzione del giocatore, con la mano dietro il palo, possibilmente con la gamba sinistra all'interno della linea di porta e siccome adesso è uno schema di gioco molto utilizzato, il giocatore tende a schiacciarsi verso la linea di fondo campo. Questo mi consente anche in presenza di un mancino di allontanarmi leggermente dal palo, cosa che potrò fare in maniera ancora più accentuata se quel ruolo è ricoperto da un giocatore destro. Addirittura in questa situazione io posso quasi avvicinarmi, si parla di naturalmente di una distanza relativa dalla porta di 3 metri quando si avvicina alla linea di fondo campo di 3 metri in su diciamo dal palo e addirittura io posso anche uscire leggermente per poter intervenire qualora ci sia un passaggio su palo 5 a un giocatore che è entrato dentro i due metri. Chiaramente come ho sempre detto la cosa importante è seguire il pallone nei suoi spostamenti sulle posizioni dello schema sempre con il bacino anticipando il movimento con la gamba del lato verso il quale devo andare. Quello che ho detto per il mancino vale anche per il destro nel caso, ma è più rara questa situazione, nel caso che lui si schiacci sulla linea di fondo campo. Spero di avervi detto delle cose interessanti e come ho sempre detto e come ci diciamo viva la palla a nuoto, la palla a nuoto non morirà mai.